Ciao a tutti e benvenuti sul canale! Oggi non mi trovo in montagna per farvi vedere i paesaggi, i luoghi che visito, ma sono qui per un nuovo video dove parlerò di alcune cose molto importanti per il futuro del mio canale. Allora, innanzitutto il canale l'ho aperto l'anno scorso, quindi l'estate 2020, precisamente il mese di luglio, ho deciso di fare questa esperienza per diciamo rompere il ghiaccio e ho deciso di aprire appunto questo canale per mostrare i luoghi che visito, le mie camminate in montagna e parlare anche di altri argomenti come il lockdown in Francia e varie problematiche della situazione sanitaria attuale. Quindi spero per un futuro di poter fare qualcosa di più carino. Ho fatto già una lista di luoghi ancora non visitati che mi piacerebbe visitare in montagna, ma anche altri luoghi che potrebbero essere delle città, dei luoghi storici. Quindi spero che questo progetto potrà prendere piede. Purtroppo io non ho nessuno che mi finanzia, perché magari sono persone che sono su YouTube e hanno alle spalle qualcuno che li finanzia, a me non mi dà i soldi nessuno. E quindi speriamo magari per l'estate e per il futuro di riuscire anche a collaborare con qualcuno magari di voi, organizzare delle camminate in montagna, se io potrò essere in Italia, si spera, e magari fare appunto camminate, conoscerci, scambiare delle opinioni, farci un picnic, mangiare a rifugio. Cercare di costruire magari un ambiente, avere dei contatti, perché appunto io vivendo all'estero non posso venire molto in Italia, perché appunto ci sono vari impegni, quindi non è proprio possibile venire sempre lì. Però spero di avere anche il tempo ogni tanto di scendere e di condividere magari con voi le mie passioni, di farmi conoscere e magari fare delle nuove amicizie e mantenere i contatti. Quindi non mi resta altro che salutarvi, spero che il video vi sia piaciuto e niente, speriamo questa cosa prenderà piede, cerco di impegnarmi e cercare di imparare un po' a fare anche i montaggi di video, diciamo decentemente. E voglio fare anche un ringraziamento a tutte le persone che mi seguono, grazie mille, ho visto che adesso siamo già a più di 50 iscritti. Si spera presto di raggiungere la di 100 iscritti, ma anche farne molti di più, ma la salita è ancora lunga, quindi bisogna fare le cose passo per passo, lo so che è molto difficile perché non è molto facile crescere su YouTube, soprattutto in questi periodi qua di crisi sanitaria che non ci si può spostare molto. E quindi cerchiamo di essere ottimisti e un gran salutone e ci vediamo per i prossimi video. Ciao!